Hai mai sentito parlare della memoria meccanica delle dita in un brano? È più o meno quando le dita sul pianoforte per esempio vanno in modo meccanico e suonano senza che il cervello sia connesso per forza con l'azione che si sta eseguendo in quel momento. Questo è molto utile quando sei ad esempio su un palco e il cervello si fa prendere dal panico e il tuo corpo continua a suonare e porta a termine l'esecuzione del brano ma non è assolutamente utile se questo è il metodo con cui ti viene insegnato il pianoforte nei tuoi primi anni di apprendimento perché è un processo di autonomia che però può portare a scollegare mente e corpo nell'atto musicale e quindi bloccare il flusso del tuo apprendimento. Su uno strumento come il pianoforte può essere successo ad esempio che qualcuno ti abbia detto. È tutta una questione di coordinazione tra le due mani oppure impara prima la destra e poi la sinistra e poi mettile insieme lentamente in modo meccanico. Spesso arrivano da me adulti che hanno fatto anni e anni di lezioni di pianoforte nel loro passato ma che dicono di non ricordarsi assolutamente nulla. Quando si studia solo in modo meccanico si crea uno scollegamento totale tra corpo e mente perché non siamo dei polipi. Sai come sono fatti i polipi? I polipi hanno il cervello diffuso in tutto il corpo e hanno i neuroni fino nei tentacoli. Noi esseri umani non abbiamo dei neuroni senzienti nelle dita ok? Quindi come puoi guadagnare quell'autonomia di interconnessione mente corpo quando suoni il pianoforte? Ovviamente non puoi trasformarti in un polipo ma puoi capire come portare l'informazione musicale nel corpo. Questo è possibile con delle procedure che permettono di sentire la musica direttamente attraverso il corpo perché vanno a collocare e a posizionare gli elementi primari musicali in punti precisi della tua memoria corporea e questo in realtà è vero a prescindere che tu debba suonare il pianoforte o qualsiasi altro strumento perché una volta che hai capito come trasferire l'informazione l'apprendimento del processo è identico per tutti gli strumenti ma è ancora più vero su uno strumento come il pianoforte. Posso insegnarti ad arrivare al cuore della tua musicalità e del tuo insegnamento con il pianoforte evolutivo. È raro che un insegnante di musica qualsiasi sia il suo primo strumento non si sia avvicinato anche al pianoforte nel suo percorso di studi o non ci sappia mettere le mani. Nei percorsi accademici ad esempio viene sempre affiancato e utilizzato per sviluppare il senso armonico in quegli strumenti che altrimenti passerebbero la loro vita a suonare delle linee melodiche pure. Personalmente è uno dei primissimi strumenti che utilizzo con i bambini proprio per quel suo lato intuitivo che rende chiari e soprattutto ben visibili alcuni dei concetti musicali primari. Suonare il pianoforte quindi è una competenza musicale che puoi aver acquisito nel tuo percorso di studi di insegnante e quando hai aperto il tuo studio di musica in proprio forse è uno dei primissimi corsi che ti è venuto in mente di aggiungere per ampliare le tue offerte. Se questa scelta è fatta nel pieno del tuo potere musicale è un'idea meravigliosa che porterà tantissime soddisfazioni e ti arricchierà probabilmente lo hai anche già sperimentato però potresti aver sperimentato anche la fatica di insegnare uno strumento che non è il tuo primo strumento e quello per cui ti sei formato e quindi ti manca su quel particolare strumento la comprensione del processo di insegnamento. Questo sulla distanza può portarti a pensare di non esserne in grado ma lo sei o che sia meglio dedicarti solo a quello che hai studiato direttamente. La masterclass di pianoforte evolutivo serve a sciogliere questo nodo completamente e regalarti la serenità di un insegnamento intuitivo e totale dal protocollo di recupero delle competenze musicali per i tuoi allievi al trasferimento dell'informazione musicale dal cervello al corpo. Ho creato la masterclass di pianoforte evolutivo per aggiungere completezza al tuo insegnamento, sicurezza e comprensione. Si tratta di una masterclass in 5 moduli, 4 più un Q&A finale in cui risponderò a tutti i dubbi e sarà un intensivo live con replay disponibile su 5 giornate per portare davvero il tuo insegnamento ad un livello evolutivo e non solo di pura informazione musicale. Se tutto questo ti risuona, se vuoi smettere di insegnare il pianoforte semplicemente utilizzando dei libri o un metodo predefinito, la masterclass evolutiva di pianoforte è quello che fa per te e io ti aspetto nel gruppo ristretto di insegnanti con cui inizierò a lavorare.